Ciao ragazzi, siamo tornati qui a NOW, buon febbraio, ed è il mese dedicato alla nostra disintossicazione. Allora, per disintossicarci dobbiamo aiutare il nostro ritorno linfatico microcircolatorio, di aiutarci proprio a drenare da una parte, andare ai nostri filtri interni a disintossicarsi, proprio come dice la parola stessa. In questo allenamento voglio utilizzare un elastico, ok? L'elastico può essere un elastico vero, proprio quello della palestra, ma se in questo momento non ne hai, tutto quello che devi fare è di andare a prendere un vecchio paio di collants e cominciamo a lavorare insieme. Ok, siete pronti per fare questo bello allenamento di intensity. Proviamo con il nostro elastico di apri e chiudo, apro e chiudo ancora. Quattro, tre, due, continui e continui. Otto e pompo con le gambe verso centro, verso basso. Quattro, tre, due. Ottimo, ok. Spingo giù con le gambe, proprio comincio a pompare in mezzo il tappeto, ok? Dobbiamo riscaldarci bene bene. L'altra cosa del nostro intensity è un gioco di spinto, di volo, ok? E volo, 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 volo ancora. Quattro, tre, due. Spingo giù, spingo, spingo, spingo. Ci siamo, lo sentite, ok? Spingo, occhio, si vola di nuovo e volo. Eccellente, ok? Perfetto, ok? Spinto, volo e lavoro, proprio per pompare, aumentare il ritorno linfatico e disintossicarci dopo un lungo inverno di troppi sgari, ok? Di nuovo, spinto verso basso, spingo, spingo ancora. Quattro, tre, due. Chiudo, chiudo con la spinta, chiudo con la spinta. quattro, tre, di nuovo apriamo, otto, otto, vai. Spingo, spingo, chiudo, otto, vai. Apro, otto, vai. Chiudo, otto, continui. Adesso facciamo un quattro, quattro, chiudo, quattro, apro, quattro, chiudo. Dai, spingi, spingi, spingo verso basso. Spingo in centro, di nuovo, due volte, occhio. Adesso lo facciamo singoli e volo. Leggero, ok? Pensiamo come proprio una farfalla. Ancora, bello libero, libero e libero. Ancora, datemi un altro. Quattro, tre, due. Andiamoci, sci di fondo. Spingo con la gamba destra di avanti. Spingo. Ancora. Quattro, tre, due. Cambio. Otto, spingo, spingo. Sto proprio premendo verso basso. Quattro, tre, due. Cambio di nuovo. Otto. Ok, anche se state provando di replicare questa a terra, ok, senza trampolino, tutto quello che devi fare è piccolissimo, non saltare troppo, ok? Però stai spingendo verso il centro della terra. Ci siamo ancora. Otto, sette, sei. Cambio ora. Otto. Vai. Di nuovo. Otto. Vai. Ultima volta. Otto. Ok. Occhio. Mettiamoci a fare il quattro, quattro, ma volando. Quattro. Quattro ancora. Dai, dai, dai. Quattro. Quattro. Volo, volo. Volo ancora. Quattro, quattro. Ok, proviamo anche qui di metterli insieme. Primo otto con la destra. Siamo pronti? Spinta. Vai. Cambio. Ora. Otto. Spingo. Ok. Facciamo quattro, quattro. Leggeri. Quattro ancora. Quattro ancora. Bravi, bravi. Quattro ancora. Occhio. E quattro. Venite con me. Prendete il vostro elastico. E andiamo a legare le nostre caviglie con un bellissimo fiocco. Fate proprio il fiocco e non un nodo. Ok. Quando lavoriamo sul nostro bellissimo intensity, hai bisogno proprio di avere un controllo assoluto sull'elastico. Ok. Perché l'elastico ha la tendenza di farci affetto fionda. E per questo voglio veramente che voi state molto attenti. Allora, con calma, apriamo le gambe. Spingiamo giù. Giù, giù. Adesso, quando chiudiamo, attenzione, attenzione. Piccola chiusura. Ok. Ok. Apriamo. Piccola apertura. Yeah. E piccola chiusura. Piccola chiusura. Ok. Ok. Andiamo. Quattro tempi. Chiudo quattro. Ancora. Quattro tempi. Chiudo. Quattro. Di nuovo. Quattro tempi. Chiudo. Ok. One more time. And quattro tempi. Ok. Proviamo di controllare l'elastico in due. E chiudo. E due. E chiudo. E due. E chiudo. Continuiamo. E voi che sentite veramente in controllo dell'elastico. Prima che facciamo le cose più complicate. Ok. Ci siamo. Proviamo singolo. E apro. Chiudo. Sei sempre tu in controllo dell'elastico. Non viceversa. Ok. Continui e continui. Otto. Senti come si lavora le gambe, l'esterno cosce, i glutei. Ok. Ok. Occhio. Ok. Libero le gambe. Ci siamo. Ok. Siamo belli caldi. Senti che siamo belli caldi. Anch'io. Allora, questo è appunto quello che vi chiedo. È tanta concentrazione. È tanto divertimento. Ci siamo. Occhio. Portiamo le gambe in avanti. Spinto. Spingo. Spingo. Otto. Vado. Otto in avanti. Torno indietro. Otto. Indietro. Sto spingendo verso basso. E otto indietro. Otto. Bello tranquillo. Non è camminata. Avanti. Facciamo. Quattro. Vai, vai. Quattro. Indietro. Quattro. Ancora. Quattro. Di nuovo. Quattro avanti. Quattro in avanti. Quattro in avanti. Quattro indietro. Quattro indietro. Ok. Occhio. Rimango qua. Salto. Volo. Volo. Dai, dai. Qui. Questa è la parte. Molto facile perché ti senti proprio leggero. Ci siamo. Otto. Sette. Allora, facciamo la spinta di nuovo. Gamba sinistra questa volta. In quattro tempi di qua. Ci siamo. Quattro. Vai. Quattro. Ancora. Quattro. Occhio. Centro. E salto. E salto. Bello semplice. Ok. Adesso di nuovo la facciamo con la destra. And it. It's up. Six. Seven. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Spinta. Spinta. Quattro. Dai. Dobbiamo desintossicarci. E volo. Ok. Bello semplice. Ok. Lo vogliamo fare proprio con le braccia che usano l'elastico? Direi proprio di sì. Facciamo. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Tre. Due. Uno. E volo. 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 Ancora. Quattro. Tre. Giusto a sinistra siamo. Sinistra. Quattro. Destra. Quattro. Sinistra. Quattro. E volo. 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 Dai. 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 Non c'è giusto o non c'è sbagliato con quelle braccia. Continuiamo. Lo facciamo un'altra volta. Siete pronti? Quattro. Vai. 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 Quattro. Spinta. Spinta. Quattro. Occhio. Volo. 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 Vado. 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 Yeah. 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 Ancora. Ancora. Quattro. Tre. Due. Andiamo. Sinistra. Quattro. Spinta. E quattro. Torno indietro. Quattro. Occhio. Quattro. Volo. Volo. E vai. 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 Ultima. Quattro. Tre. Due. Uno. Uno. Ok. Scendiamo giù con l'elastico. E leghiamo la nostra caviglia. Rimettiamo il nostro fiocco. Ok. Stai continuando. Proprio premere con le vostre gambe. Ci siamo. Ok. Destra. Quattro. Quattro. Vai. Quattro. Indietro. Quattro. Occhio. Quattro. E vola. 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 Ci siamo. Quattro. Tre. Due. Sinistra. Andiamo. Quattro. Giù. Quattro. Indietro. Vai. Quattro. Quattro. E vola. 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 Ok. Lo facciamo ancora una volta. Siamo pronti, ragazzi? Partiamo con la destra. Vai. Quattro. Vai. Quattro. Torno indietro. Quattro. E si vola. Rimango là. Vola. Vola. Ancora. Vola. Vola. Senti come si sta proprio caricando e scaricando le tensioni, ma caricando quei muscoli. Quattro. Quattro. Torno indietro. Quattro. Occhio. Quattro. Si vola. 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 Quattro. Tre. Occhio. Inliberiamo le gambe. Eccellente, ragazzi. Inliberiamo le gambe. Andiamo. Velocemente. Lascia quell'elastico intorno alla vostra. Punto vita. Legala bene. Ma non troppo, perché ci serviranno fra pochissimo secondi. Occhio. Andiamo in centro. Jumping jack. Jumping jack. Vai. Vai. Spinto in centro. Otto. Di nuovo. Otto. Otto. Spingo. E chiudo otto. Otto. Eccellente. Andiamo. Quattro. Di quattro. Quattro. Tre. Due. Chiudo. Quattro. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Ecchio. E dammi singoli volando. Singoli volando. Ok. Proprio volo volo. Four. Three. Ci dammi quattro tempi. Apro. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Ancora. Quattro. Tre. Occhio a quello che facciamo. Si gira. Si gira. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Dammi altri. Quattro. Quattro. Tre. Due. Quattro. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Si gira. Sinistra. Singolo. 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 Quattro. Tre. Due. Tutto da capo. Andiamo. Quattro. In avanti. Quattro. Indietro. Indietro. Quattro. Indietro. E si rimane qua. E si salta. Oh. Bella carica. Bella carica. Occhio. Quattro. Tre. Due. Sinistra. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Ancora. Quattro. Si vola. Vai. Vai. Ci siamo. Ancora. Quattro. Tre. Jumping jack. Quattro. Apro. Quattro. Tre. Due. Chiudo. Quattro. Apro. Quattro. Ci siamo. Chiudo. E con i singoli. Giro. 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 Quattro. Tre. Due. Quattro. Di nuovo. Quattro. Chiudo. Quattro. Ancora. Apro. Quattro. Occhio. Chiudo. Si gira con i singoli. Giro. 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 Quattro. Tre. Due. Perfetto. Allora. Riprendiamo i nostri elastici. Uh. Lo senti il lavoro? Ok. Perfetto. Adesso. tra un esercizio e un altro passeremo da una figura e l'altra con l'elastico. Ok? Così non abbiate paura se non riuscite a fare subito con le braccia. Mese dopo mese. Giorno dopo giorno. Allenamento dopo allenamento. Devente sempre più facile. Ok? Siamo pronti. Prendi l'elastico. Eight. Five. Six. Seven. Destra. Quattro. Quattro. Vai. Va. Quattro. Indietro. Quattro. 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 Salta. Salta. Vai. 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 Quattro. Tre. Due. Sinistra. Quattro. Vai. Quattro. Indietro. Quattro. Yeah. Quattro. E salta. e otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. In basso. Apro. Quattro. Chiudo. Quattro. Ancora. Quattro. Chiudo. Quattro. E vado in su con i singoli. Due. Tre. Quattro. ancora. Cinque. Sei. Sette. Di nuovo quattro. Tiro quattro. Chiudo quattro. Ancora. Tiro quattro. Chiudo quattro. E gira a sinistra. Vai. 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 Quattro. Tre. Due. Ok. Si lega le gambe ragazzi. Scendiamo. Ricordate che dovete legare con un fiocco. Spingo. Ci siamo. Ok. Five. Six. Seven. Giù. Quattro. Tre. Due. Quattro. Dietro. Quattro. Cora. Quattro. Salta. 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 Ancora. Quattro. Tre. Due. Sinistra. Giù. Quattro. Vai. Senti. Usa l'elastico. Controlla l'elastico. Ancora. E salta. 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 Quattro. Tre. Due. Jumping jack in apertura. Quattro. Chiudo. Quattro. Ancora. Apro. And. Chiudo. Si giri a destra. apro. Chiudo. Vai. 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 Quattro. Tre. Due. Abbiamo quattro. Quattro. Tre. Due. Uno. Chiudo. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Chiudo. Giriamo. Giro. 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 E quattro. Tre. Due. Ok. Sleghi le gambe ragazzi. Eccellenti. Stiamo facendo un lavoro davvero straordinario. Proprio per disintossicare il corpo e questo voglio da voi. Tanto lavoro ma tanti benefici. Ci siamo? Lo facciamo. Adesso scarico. Quattro. 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 Bello che scarico. Bello scarico. Proprio scaricare tutte le tensioni, le tossine. Vai. 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 An. Quattro. Tre. Due. Sinistra. Quattro. Quattro. Dai. 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 Quattro. 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 Ancora. Quattro. Vola. 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 Come on. Vola. Vola. Quattro. Tre. Jumping jack. Quattro apertura. Vai. Vai. Quattro. Cora. 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 Quattro. Vai. Vai. Quattro. Si gira. Si gira. Si gira. Si gira. Ancora. Quattro. Tre. Dammi un altro quattro. Siamo pronti. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Quattro. Si gira a sinistra. Vai. 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 E quattro. E tre. E due. Eccellenti. Ok. Eccellenti. Abbiamo fatto un bel allenamento. Bel livello. Medium. Con intensity. Per aiutarci a disintossicare il nostro corpo sul mese. Proprio della disintossicazione del nostro febbraio. Vi auguro una giornata splendida. Vi aspetto nel prossimo allenamento qui su Now. E passate. Una giornata pazzesca. Ciao dalla Jill.